gentili telespettatori buona giornata vediamo le intenzioni di voto politiche nazionali in un sondaggio fatto dall'agenzia tecnè proprio di oggi vediamo che è suddiviso tra camera e senato di solito si prende solo e si legge solo quello della camera ma li vediamo tutti e due fratelli d'italia è il primo partito con il 24,2 per cento alla camera e il 24,3 per cento al senato mentre pd più articolo 1 più psi partito socialista italiano è al 24 per cento alla camera 24,1 al senato la lega di salvini al 13,4 per cento al alla camera e al 13,3 per cento al senato forza italia doppia cifra al 10,9 per cento alla camera e l'11 per cento al senato il movimento 5 stelle al 9,5 per cento alla camera e al 9,2 per cento al senato azione e più europa sono al 4,9 per cento alla camera e anche al senato al 4,9 i verdi sinistra italiana 3,9 per cento alla camera 3,9 per cento al senato italia viva 2,9 per cento alla camera 2,9 per cento al senato vediamo che sotto i verdi e sinistra italiana tutti gli altri partiti sono fuori dal dal parlamento perché c'è una soglia al 3 per cento quindi abbiamo italia viva che sarebbe fuori italexit con il 2,7 sarebbe fuori noi con l'italia l'1 per cento sarebbe fuori e poi ci sono tutti gli altri partiti che sono al di sotto dell'1 per cento anche il partito di 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 maio praticamente è un non partito non esiste fa parte degli altri partiti al 2,6 per cento la camera e 2,7 per cento al senato ma andiamo a vedere gli scenari vediamo questo primo scenario allora fratelli d'italia lega forza italia e noi con l'italia di lupi sono al 49,5 per cento alla camera e il 49,6 per cento al senato se poi vediamo una coalizione fatta da pd azione di calenda e verdi sinistra italiana hanno un 32,8 per cento alla camera e un 32,9 per cento al senato c'è una differenza di oltre il 17 per cento di vantaggio del centrodestra il movimento 5 stelle sfruttando poi il voto di scambio del reddito di cittadinanza alla camera avrebbe ancora il 9,5 per cento e al senato il 9,2 mentre poi abbiamo italia italia viva abbiamo paragone altri partiti all 8,2 per cento alla camera e 8,3 per cento al senato se andiamo a vedere se andiamo a vedere lo scenario numero numero uno invece abbiamo i primi quattro partiti sempre il centrodestra al 49,5 e al alla camera il 49,6 al senato mentre pd azione italia viva 31,8 a camera 31,9 al senato abbiamo una un distacco comunque di oltre il 17 per cento anche in questo caso se poi vediamo invece movimento 5 stelle insieme a sinistra italiana e verdi hanno il 13,4 per cento alla camera e il 13,1 per cento al senato mentre se poi vediamo italia agli altri partiti più quello di paragone c'è un 5,3 per cento alla camera un 5,4 per cento al senato ma andiamo a vedere lo scenario numero lo scenario numero 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 3 e abbiamo sempre il centrodestra con il 49,5 per cento alla camera il 49,6 al senato mentre il pd con azione di calenda italia viva e sinistra italiana tutti insieme hanno un 35,7 per cento alla camera e un 35,8 per cento al senato si avvicinano un po di più al centrodestra però abbiamo una distanza di circa il 14 per cento il movimento 5 stelle da solo vale sempre il 9,5 per cento alla camera e il 9,2 per cento al senato e poi abbiamo sempre altri partiti più quello di paragone 5,3 alla camera e 5,4 al senato andiamo a vedere l'ultimo scenario e vediamo che in questa simulazione il centrodestra è sempre al 49,5 alla camera e 49,6 al senato mentre abbiamo che tutti messi insieme tranne italexit quindi il pd azione italia viva i verdi e il movimento 5 stelle arriverebbero al 45,2 alla camera il 45 per cento al senato c'è una differenza di circa il 4 per cento questa è la migliore delle ipotesi per il centro sinistra tutti insieme che naturalmente è un'opzione quella che si mettono poi d'accordo dopo le elezioni poi abbiamo anche un'altra scheda il comportamento elettorale si stimano i votanti al 60,2 per cento vediamo che il totale di quelli che indicano un partito sono il 54,8 per cento mentre il totale dell'astensione degli incerti al 45,2 per cento quelli che sicuramente non andranno a votare sono il 27,1 gli incerti il 12,7 mentre quelli che andranno a votare ma devono decidere per quale partito è il 5,4 per cento quindi quelli che indicano un partito 54,8 più 5,4 di quelli che andranno a votare ma devono ancora decidere si arriva a un 60,2 per cento di votanti che è bassissimo grazie a tutti arrivederci a presto